Ci siamo sentiti di prendere una posizione assolutamente contraria, non tanto nel merito della necessità di prevedere un aumento, ma dell'importo, perché comunque si parla di un raddoppio, e poi della tempistica. Non c'è stata nessuna concertazione, c'è stato comunicato e quindi il metodo sicuramente ci ha lasciato decisamente perplessi. È un distanzo congiunto quello delle associazioni a retine di categoria per l'aumento, anzi raddoppio, della tassa di soggiorno a stagione turistica avviata. La tassa di soggiorno ad Arezzo è stata molto ben utilizzata, si sono visti i risultati, quindi da questo punto di vista Arezzo è un esempio virtuoso rispetto ad altre parti d'Italia, però un aumento così repentino può mettere in crisi tante strutture, soprattutto perché entrerà in vigore il primo di maggio. Oggi è il 14 di marzo, quindi è veramente una decisione presa estremamente a ridosso dell'entrata in vigore. Associazioni ed operatori temono così il rischio di un effetto boomerang. L'occupazione delle stanze non è dovuta solo a certi periodi di maggior afflusso, dove magari si cerca comunque di stare ad Arezzo, un'attività turistica lavora tutto l'anno, lavora 12 mesi e in quei 12 mesi il lavoro è variegato, può lavorare con imprese, può lavorare con lavoratori che vengono ad Arezzo per motivi di altro genere, non prettamente turistici, di vacanza, quindi magari potrebbero tranquillamente scegliere anche il comune accanto, che ha un'imposta più bassa e che quindi pesa meno nel bilancio della trasferta. Secondo le associazioni di categoria, il comune di Arezzo avrebbe potuto anche esplorare altre strade. C'è una grossa evasione del dato statistico e quindi supponiamo che ci sia una grossa evasione anche del dato, ovviamente del gettito d'imposta. Da un paio d'anni a questa parte una direttiva comunitaria ha previsto la possibilità di fare degli scambi di informazione fra il ministro degli interni e quindi il sistema alloggiato web per i tecnici, là dove si denunciano il numero delle presenze e l'imposta di soggiorno. Sono comunque un dato orientativo per capire se c'è un'evasione oppure no. Si tratta di avere la volontà di farlo e di individuarle in maniera puntuale, di non andare a pensare che se aumenta l'imposta, come purtroppo però spesso capita in Italia, a chi già le paga, ma andando a cercarle da parte di chi non le versa, magari anche andando a regolarizzare posizioni che attualmente non sono regolari.